Una perimetrazione a pettine che non si basa su criteri scientifici e che presenta invece diversi lati oscuri, ne è convinto l'onorevole Fabrizio Di Stefano, che ha annunciato in conferenza stampa a Lanciano un esposto in procura. In particolare, il parlamentare di Forza Italia mostra la perimetrazione, definendola anomala, del territorio di Vasto, dove il parco delineato dal commissario Pino De Dominicis annetterebbe aree oggi edificabili, provocando da un lato il forte depreciamento di queste stesse aree e dall'altro valorizzando considerevolmente quei terreni che diventerebbero confinanti col parco della costa tiatina. Qui Prodest, per ottenere risposta a questa domanda, l'onorevole Di Stefano si rivolge alla magistratura. Credo che sia giusto fugare tutti i dubbi su questa perimetrazione. Una perimetrazione che tutti hanno definito a pettine perché ha queste strane stroflessioni e introflessioni sul territorio, ci sono linee dritte e qualcuno, anche sui blog vastesi, ha ipotizzato che ci fosse mani particolari che hanno disegnato in questa maniera originale questa perimetrazione. Ora, non essendoci nessun documento scientifico che giustifichi questa perimetrazione a pettine ed essendo in dubbio il fatto che i terreni che rimangono all'interno del parco, se edificabili, possono perdere valore o perdono sicuramente valore perché perdono i requisiti di edificabilità e viceversa i terreni che ne restano appena fuori ne acquisiscono di valore perché diventano più appetibili, questa variazione di valore economico di questi terreni credo che sia giusto farli valutare dalle autorità competenti. Anche perché ci sono territori, ad esempio il parco di Limoni, a Vasto, che essendo parco non è rientrato dentro il territorio di protezione, di ipotesi di protezione, e viceversa territori come gli stessi porti o le aree per i portuali che rientrano invece in quelle zone. E allora è chiaro che c'è chi manifesta i dubbi, l'ha manifestato anche sui web, e è giusto che sanare questi dubbi ci pensino gli organismi preposti. Di qui il mio esposto.